Come va? Tutto bene? Tutto bene. Insomma, in questo giorno di grande festa, cosa avete preparato? Tutti buoni. Che ci siamo tutti? Che avete preparato? Il menù? Il menù? Domani è San Michele. Oggi è maccarina, non poche carne, due pezzienti, li chiamavano. Ah, i pezzienti? I pezzienti. Sperai ai nostri amici dei spettatori, sarebbero dei cotechini. I cotechini. I cotechini, sì. E quindi è un bel pranzetto, no? Un bel pranzetto. E perché è venuto di me in generale a Torino. Da Torino, ah. E dite così, ma fanno i pezzienti, li mancano. Eh sì, perché a Torino si sonnano i pezzienti. Ci stanno, ma non so come noi. Qui ci mettono l'aglio, mettono i pezzienti, no? Ah, eh. E fanno come si deve. Poi voi avete il vino che è buono, il rego di tuffo. Ecco. Eh? Eh. E restano contenti, signore? Conditissimi. Sì? Eh. Eh, ma quanti pezzienti si mangiano, signore, quando vengono qua? Uno, due. Ah, abbondano? Al giorno. Poi. Poi. Condino. Ah, proprio è una maratona di pezzienti. È pezzienti. Tessasicchia. Eh, eh. Noi poi chiedono tanti anni, facciamo sempre un spezzatino. Ah, che bello, signore. Due piselli. Eh. Dopo chiedono l'agnello. Ah. Eh. Perché fanno l'angeli tardi. Eh. La mattina puoi aspettare fino a quell'ora. Quindi la fame aumenta. È aumenta. E' aumenta. Lo cupinelli è quello, fai ma renne. È brava, signore. È brava. E poi digeriscono e poi si mangia di nuovo. Ah, sì, si mangia di nuovo. Ah, sì, la sera vi è tre e quattro. Eh, certo, signore, per cucinare tante belle pietanze ci dovete lavorare. Eh, beh, che vuoi fare? Che mi fai, no? Da una settimana, credo, che state ai fornelli. Vabbè, voi siete del mestiere, delle vecchie guardie. Perché adesso per le giovani è già un po' più difficile. Ah, non vogliono i piatti. Non vogliono... Un paziente non lo sanno preparare. Non lo sanno preparare. Hanno fai i mariti. I mariti addirittura fanno i pazienti. Fanno il succo. Ah, proprio se pensano la religione. Ecco, poi non vogliono fare i bottiglie, quelli di... Non vieni le bottiglie. Quello che dà le pomodori che accadde, ti mangi l'oro. Eh, eh. Accadda a quelli cento, cinquanta, quanto costano, l'indaggia. Accadda non pare che dà le pomodori. Per me e me. Brava, signora. Signora, qual è il segreto dei pazienti? C'è proprio il segreto per farli venire bene bene? Quelli fanno una po' che quella carne è più discreta. Una po' che godeca. Eh. Una po' che qualche cosa. Fanno tutto miscato. Eh, ma che ci mettete? La Roma? Ah, ma c'è l'aglio. Ah, questo è il segreto. Eh, lo pipicierlo. Ma c'è. E poi i cunzi con sale. Hanno stato una bella quella. E i cunzi cintano dentro la grande. Perché poi non ne fai due, tre. Eh, parecchio. Questi vengono da Torino affamati. Affamati. Se portano quando ne se cazzo. Se portano pure. Eh, beh. Quello che ha detto, mangi a portare. Non importa che se non ha parecchio. Che può portare. E ha detto, non chilo. Ora voglio in divano. Eh, bravi. Eh. Eh, vabbè. Grazie signora, siete stata gentilissima. Signora. Com'è il vostro nome? Campanile Fiorita. Fiorita. Che bello nome. Fiorita. Abbi tu, pò, bè. Che bello nome Fiorita. E tra l'altro anche il balcone Fiorito, la signora. Questa è accattata in questa casa. Eh. E oggi mi sono inviato a miei figli che stanno fuori, stanno a Torino. Quando venivano, tu accattò con i suoi, le chioni erano da Puzzo. Trovano pazienti e fiori qua. E fiori. Va bene? Si trovano in casa. Quanto anni avete voi? 85. E questo è il segreto dei pazienti. Di pazienti. Grazie signora. Ciao.